vediamo che si connetta qualcuno buonasera a tutti or ends with beginnings what keeps the planet spinning the force from the beginning we've come too far to give up who we are so let's raise the bar buonasera a tutti per chi non mi conoscesse sono Alessandro Di Fonzo e sono il primo agri-coach in Italia Cornel Adronan Adronan che? Adronan che? non so come si pronunci bene comunque buonasera a te Cornel come state? tu e tua moglie vedo qui nella sono il primo agri-coach in Italia e sono un agri-coach perché il mio coaching quindi le mie competenze hanno la finalità di aiutare i giardinieri a guadagnare di più e a vivere una vita migliore perché riesco a fare questo? perché sto portando scusate lo faccio dopo perché sto portando ciao Pamela veri qua si passa da una parte all'altra così come se nulla fosse perché sto portando in Italia una novità assolutamente unica nel settore del giardinaggio in quanto le mie competenze nascono da giardiniere garden designer bravissima hai azzeccato nascono da le mie competenze da giardiniere garden designer quindi che ho fatto per dieci anni quindi per una gran parte della mia vita sono partito da fare giardini di bassissimo livello quei posti brutti con l'erba alta dove vai a decespugliare e prendi il filo di ferro ogni tre secondi devi tagliare devi sistemare il filo del decespugliatore ogni tanto magari becchi anche qualche cacchetta che ti schizza pure addosso è successo a me come è successo a voi e questo lo so e poi nel frattempo ho diciamo oltre a aver studiato la parte tecnica del mio lavoro quindi come potare bene gli alberi gli impianti di irrigazione come progettare giardini meravigliosi ho anche implementato la parte del marketing studiando con i migliori formatori italiani i migliori formatori esteri addirittura ho preso aerei per volare fino a dove? fino a Londra dove sono andato a prendermi ciao vita toio lizio sono andato a prendermi quelle informazioni che in Italia non erano assolutamente disponibili in quanto il marketing è una disciplina assolutamente mediamente anzi non esageriamo sconosciuta in tanti settori soprattutto nel settore del giardinaggio e vi garantisco ti garantisco popolo giardiniere che se impari il marketing e sai fare un minimo tecnicamente il tuo lavoro in maniera dignitosa puoi avere un vantaggio competitivo sulla tua concorrenza che poi te li mangerai a colazione in un sol boccone ok perché in Italia pochissimi giardinieri sanno fare bene tecnicamente il loro lavoro pochissimi giardinieri sanno fare marketing e pubblicità pubblicità e marketing sono due cose differenti benché le possiamo anche chiamare complementari però la cosa strana la cosa ciao Michele è giunto è la cosa stranissima che nonostante chi fa marketing in tutto il mondo ha poi un successo clamoroso rispetto alle altre attività non si capisce per quale motivo questa cosa in Italia in tantissimi settori sia sconosciuta soprattutto nel settore del giardinaggio ovviamente perché farsi pubblicità quando c'è ancora il passaparola ecco questa parola che ti impasta la bocca il passaparola degli anni settanta cioè io poi io poi mi agito ma ora arriviamo al succo del discorso il passaparola si è bello funziona e la cosa è migliore quando il mio cliente dice al suo amico consiglia a me al suo amico è praticamente fatta quindi però il passaparola è come dire io scelgo come sistema per trovarmi per veicolare i miei messaggi per trovare nuovi clienti è come se prendessi una formica ok salgo su una formica e dall'altro lato ho il marketing la pubblicità e posso salire su una Ferrari ecco questo nel 2020 è fondamentalmente la differenza cioè devo scegliere tra una formica perché vi ricordo che ci sono proprio faccio un sorso di birra permettetemi dopo una giornata di lavoro e non solo io mi dedico all'evoluzione dei giornini e così raccontando delle informazioni che cambieranno letteralmente il vostro modo di fare business e il vostro successo nel vostro settore permettetemi almeno una birrettina in relax una tennis la mia birra preferita tra l'altro ora vi racconto una storiella perché ci piace pure un po' di viagare ero in un famoso locale di Pisa e vedo un tipo con tatuato il tappo della tennis qui sul collo era un tipo un po' strano anche lui era un appassionato di tennis e così lo fermo siccome pure io sono appassionato di tennis grande Lino Vallone gli ho chiesto scusami perché hai tatuato il tappo della tennis no guarda io sono un affezionato della tennis proprio impazzisco per questa birra tu pensa che una volta con un mio amico abbiamo organizzato un viaggio e siamo andati in Scozia in Irlanda ora non mi ricordo dove ero originariamente sono partiti questi pazzi di Pisa per andare a vedere la fabbrica della Tennis che è nata in Irlanda in Scozia però dopo un po' di tempo è stata acquisita in Germania quindi effettivamente la sede della Tennis è a Brema ok e quindi questi tipi sono organizzati per fare un viaggio per andare in Scozia a vedere la fabbrica della Tennis dove forse c'era nel 1900 poi non lo so evidentemente insomma uno che si fa il tatuaggio della Tennis il tappo della Tennis sul collo non deve stare molto bene psicologicamente quindi è una cosa abbastanza normale che si è incappato in un errore del genere però ci interessa meno della Tennis che è la mia birra preferita la birra preferita dell'agricot ci interessa di più dell'evoluzione dei giardinieri ciao Claudio Burchi e quindi cercare cioè vi voglio far capire come il marketing sia effettivamente l'anello mancante per il successo che meritate soprattutto se sapete fare bene il vostro lavoro tecnicamente e per bene diciamo che il livello italiano è talmente basso che insomma non è che ci voglia molto e il mio approccio è quello molto orientato alla formazione cioè se uno andava a scuola e non studiava non ce ne frega un cazzo cioè a scuola dove sei obbligato a studiare sì puoi farlo meglio farlo sicuramente che non farlo ma assolutamente non serve a niente il bello dello studio inizia proprio dopo quando la scuola finisce no quando uno sceglie il settore di competenza e si spera che voglia diciamo approfondire soprattutto se poi è una partita io voglia approfondire quelle tematiche quelle conoscenze tecniche che poi ci permettono ad essere diciamo perlomeno non dico i migliori ma essere dei fornitori di prestatori di un servizio perlomeno a medio alto livello poi c'è chi avrà l'ambizione di essere il migliore c'è chi se ne fregherà meno ma il consiglio è che se essendo un settore dove nessuno sa fare niente se uno implementa un minimo di conoscenze tecniche può essere in grado poi di farsi pagare di più perché tutti i giorni sento i giardinieri piangere la gente non ha soldi arriva il pensionato che mi ruba il lavoro arriva quello senza partita IVA che lavora a nero a 8 euro l'ora e tutti che piangono al bar lo stato non ci aiuta 600 euro non arrivano e tutta questa roba qua grande meritropea e io dico invece di piangere fate qualcosa cioè piangere lamentarsi è una cosa che è depotenziante nei confronti del nostro approccio alla vita in genere al lavoro a qualsiasi cosa no piuttosto che lamentarsi magari informarsi vedere se ci sono delle soluzioni provare le soluzioni e magari poi lamentarsi ma uno dice almeno ho provato un'altra strada e nel provare nell'informarsi nel trovare soluzioni quella di formarsi è sicuramente una delle migliori cose che si possano fare piuttosto che stare al bar a piangere a lamentarsi con gli amici e con gli altri colleghi giardinieri ed è in questo che l'agristiere si l'agristiere ho sbagliato scusatemi io mi confondo perché vivo una vita al limite tra due personaggi mediatici e quindi a volte mi confondo in questo caso sono l'agricoci perché ho diverse aziende in diversi settori e quindi ogni settore di competenza ha la sua figura di pertinenza quindi nel settore del giardinaggio per emergere per evitare che i pensionati che quelli senza partita IVA vi possano rubare il lavoro è molto semplice basta essere formati basta saper fare marketing basta far capire alle persone che ci siamo quindi che non essere sconosciuti fargli capire qual è il nostro valore fargli capire le motivazioni per le quali queste persone devono scegliere noi e pagarci di più rispetto a prendere altre persone che non hanno partita IVA altre persone che non hanno formazione tecnica e quindi approfittarsene e pagandole di meno e ora vi vado a indicare come l'agricoci in questo caso quindi per chi è giardiniere può essere d'aiuto faccio un sorsettino di birra e poi proseguo allora già oggi è possibile fare consulenza se andate sul sito www.adcoach.it c'è proprio una pagina una sezione dedicata alla consulenza ed è possibile accedere alla consulenza compilando un modulo e candidandosi che significa che non tutti possono fare o possono accedere alla consulenza con l'agricoci perché affinché e questo lo dico proprio nella massima trasparenza e nella più grande sincerità ecco a me non mi interessa io ripeto ho varie aziende o lavoro dalla mattina alle 4 fino alla sera alle 8 alle 9 perché poi dopo le 9 e mezza in genere casco per terra tipo omicidio poi arrivano i ris e mi prendono la sagoma quindi sono persone che la sera mi trasportano nel letto quindi ho pochissimo tempo a disposizione e soprattutto il tempo non è il fattore limitante decido con chi lavorare perché assolutamente non mi interessa lavorare con chi poi non è in grado di recepire e di mettere in atto i consigli le soluzioni che vengono indicate durante la consulenza per questo motivo è necessario compilare un modulo rispondere alle domande quindi verrà fatta una selezione delle persone che diciamo si vogliono candidare ad avere una consulenza con la di coach dopo questa selezione se sarà ritenuta opportuna e probabilmente proficua la collaborazione lavorativa si procederà a fare una consulenza che sarà assolutamente effettuata in video ok quindi tramite piattaforme tipo zoom skype o similari la consulenza sarà videoregistrata e quindi sarà consegnata insieme a un documento riassuntivo nel quale vengono indicate le ciao Alberto Sartiero dove vengono indicate le le soluzioni per il business di giardinaggio e quindi se in principio non siamo in grado di capire o perlomeno si vede che la persona che sfrutterà la consulenza non è in grado poi di mettere in atto i consigli dati la consulenza non viene fatta perché altrimenti che succede che si crea scontento da tutte e due le parti c'è chi paga la consulenza non ottiene risultati e quindi non è soddisfatto perché ha speso dei soldi secondo lui male è una persona che secondo lui ha speso dei soldi male ovviamente farà una cattiva pubblicità a chi ha fatto consulenza quindi per entrare in consulenza con l'agricoach è necessario candidarsi quindi non tutti possono farlo solo sceglieremo solo quelli più appropriati solo quelli che sono diciamo più predisposti a essere in sintonia con un certo tipo di lavoro perché come ho già spiegato da quando l'agricoach ha lanciato sul mercato il suo progetto di evoluzione giardinieri il mercato si è letteralmente spaccato e si è segmentato in tre parti che sono i giardinieri evoluti o in via di evoluzione i giardinieri che sono i giardinieri di ieri cioè quelli che sono ancora ancorati al passaparola quelli che pensano che la fotinia sia l'unica siepe che possa essere messa all'interno di un giardino e che magari fanno un po' fatica ma sui quali possiamo lavorare portandoli verso un'evoluzione e poi abbiamo l'ultima categoria una categoria protetta che è quella dei giardidioti cioè dei giardinieri idioti che sono quelli che commentano male che sono quelli che dicono la formazione non serve un cazzo io ho imparato da mio nonno e quindi sono a posto con le conoscenze tecniche degli anni 70 posso affrontare il mercato del 2020 perché il mercato del 2020 è un mercato del 2020 innanzitutto ma poi ci mettiamo anche il covid e magari ci sarà una piccola crisi considerate che il petrolio ieri aveva un prezzo negativo invece di venderlo devono chiamare le persone per prenderlo e buttarlo non ho capito come funziona questa cosa quindi magari ci sarà una piccola crisi magari ci saranno meno soldi a disposizione per chi vuole fare i giardini e probabilmente farà i giardini chi se lo merita chi sa fare qualcosa di tecnicamente rilevante differente da quello che si compra il Tosa Siepe il Tosa Erba e va a falciare a caso quindi se già prima era un problema trovare lavori ok non farsi riprendere da chi esce a 10 euro perché è un pensionato perché è un non ha partita IVA figuriamoci nell'immediato futuro con meno soldi a disposizione quando chi magari ha avuto la cassa integrazione o la riduzione di stipendio dirà piuttosto che camare uno che magari ha un Tosa Erba a caso me la taglio io l'erba e quindi risparmio questi soldi per altre cose quindi fate bene i vostri conti e considerate queste situazioni quindi la consulenza ripeto i giardidioti che sono quelli che dicono che la formazione c'è una farfallina la formazione non serve a un cazzo quindi questo è quello che dicono i giardidioti sono una categoria protetta perché nel momento in cui inizieranno a diffondersi i giardinieri evoluti che deriveranno dal processo dall'impatto che l'agricoccia avrà sul mercato del giardinaggio in Italia si inizieranno a estinguere quindi è nata proprio un'associazione che è l'agile l'associazione giardidioti italiani che si occupa proprio di proteggere i giardidioti che diventeranno una specie protetta in quanto in via di estinzione ovviamente scherzo io sono uno burlone però queste cose sono assolutamente vere quindi chi è in quella condizione chi continua a pensare che il giardinaggio sia l'unico settore al mondo che non merita alcuna formazione si sta sbagliando di grosso e se comunque continua ancora a lavorare deve sapere che sta perdendo un'opportunità letteralmente pazzesca perché in Italia è pieno di gente e soprattutto in questi ultimi anni le persone si stanno evolvendo a livello di gusti le persone stanno diventando più esigenti nella ricerca di un manutentore del verde e sono anche più disposte a spendere diversi soldini sul loro giardino ok quindi chi non si forma chi non capisce come può migliorare tecnicamente chi non impara il marketing per rendersi la persona più ambita sul mercato per diventare la star locale la star del giardinaggio locale e prendere tutti i clienti che vuole e farsi pagare quanti soldi vuole è veramente un pollastro scusatemi quindi vi ho parlato della consulenza la consulenza ovviamente è un done for you cioè un qualcosa che viene fatto uno a uno qualcosa che poi porterà ad avere una soluzione tagliata su misura sulle vostre esigenze ed è quindi necessariamente più costosa per rendere accessibili le informazioni preziose che già in maniera del tutto gratuita sto distribuendo sui miei canali che sono il canale facebook il canale youtube il sito www.agricoch.it il canale telegram giardiniere vincente al quale vi invito a iscrivervi se non l'avete già fatto avremo a breve prevediamo l'uscita per la fine del mese di maggio di un videocorso un videocorso che diciamo è una forma piuttosto innovativa che si inserisce in un mercato che si chiama info business che è un mercato in espansione pazzesca perché dovete sapere che io ho fatto tantissimi corsi nella mia vita soprattutto per il giardinaggio andavo spessissimo nella scuola agraria del parco di monza a milano praticamente ho fatto praticamente tutti i corsi della scuola agraria del parco di monza e questo che cosa comportava comportava che io comunque dovessi muovermi qui da pisa prendermi una settimana di allontanare una settimana dal lavoro perché i corsi generalmente erano da lunedì e venerdì quindi sostenere delle spese di viaggio sostenere delle spese di vitto e alloggio andare a lezione prendere appunti e poi purtroppo come sapete gli appunti fate il corso tutto bello però dopo un po' il 70-80% delle cose è fisiologico proprio che ce le dimentichiamo anche se sicuramente una cosa bellissima quando fai un corso dal vivo quindi quando ti riunisci con persone che hanno i tuoi stessi interessi c'è la cosa molto bella che fai conoscenze e quindi fai rete quindi poi parli con persone del tuo stesso settore ti confronti su alcune tematiche su alcune problematiche a volte trovi anche delle joint venture lavorative quindi questa cosa diciamo è impagabile ma l'agri-coach organizzerà anche un corso totalmente top secret e favoloso con una location indimenticabile nell'anno 2021 però ovviamente non ve lo dico e prima fine maggio uscirà un videocorso ecco come funziona un videocorso il videocorso viene messo viene montato viene caricato su una piattaforma di e-learning ok di electronic learning grazie alla quale cosa fate voi pagate lo acquistate tranquillamente in e-commerce con la vostra carta di credito con il vostro paypal vedremo se sarà disponibile anche un sistema di pagamento a rate perché il videocorso ovviamente avendo dei contenuti che sono unici in Italia perché ripeto sono l'unico in Italia avere conoscenze sia nel giardinaggio aver quindi vissuto le problematiche dei giardinieri di aver combattuto con i clienti conoscere molto bene le potenzialità e le problematiche del settore sono anche un esperto di marketing che ha ottenuto risultati eclatanti sia nel giardinaggio che in altri ambiti non in ultimo un crowdfunding con il quale ho effettuato una raccolta nazionale infrangendo tutti i record raccogliendo ben 126.000 euro in un solo giorno e questa è una cosa che rimane agli atti e questa cosa l'ho fatta imparando appunto a fare grazie alle conoscenze di marketing e di comunicazione al fatto che mi piace comunque metterci la faccia che è diciamo una delle cose più importanti per ottenere risultati nella comunicazione quindi sarà questo videocorso che ripeto non sarà sarà piuttosto costoso quindi preparate mettete da parte i soldini e sarà disponibile a partire da fine maggio e sarà su una piattaforma di e-learning e sarà diviso in varie sezioni quindi in varie lezioni che voi potrete studiare guardare all'infinito ok senza muovermi comodamente da casa perché è chiaro che un giardiniere deve stare prevalentemente in giardino e quindi magari soprattutto nei periodi più caldi che sono quelli appunto che stanno per arrivare sperando che si possa tornare a lavorare a pieno e in tutta tranquillità avrete questo videocorso a disposizione da guardare e riguardare ogni volta che lo vogliate e in modo da poter approfondire ogni tematica e poterci tornare su quante volte volete assolutamente è un sistema comodissimo è un sistema che è diffuso in altri settori ma assolutamente unico come contenuti è unico come modalità di somministrazione nel giardinaggio perché attualmente innanzitutto non esiste un corso di marketing per giardinieri poi ci sono dei corsi per giardinieri però di questo tipo assolutamente non mi risulta e quindi anche in questo caso la B-Coach sta proponendo qualcosa di assolutamente unico in Italia faccio un sorsettino che sto parlando da circa un'ora e mezza e quindi a un certo punto sto soffrendo ovviamente non sarà l'unico corso ci saranno vari corsi di varie cose ovviamente tutte attinenti al marketing per giardinieri assolutamente tutti i corsi sono complementari e ognuno serve per essere diciamo il primo e il secondo sono il secondo che uscirà poi in ottobre probabilmente sono assolutamente complementari e il primo che uscirà sarà assolutamente la base dalla quale partire e dalla quale puoi andare a attaccare gli altri pezzettini del pazzo perché comunque se il marketing è importante ci sono anche altre cose nell'azienda di giardinaggio che devono essere prese in considerazione ma non mettiamo troppa carne al fuoco non dico troppe cose perché come sempre poi quando tu sei innovatore in un settore appena gli altri iniziano a notare la cosa iniziano a fiutare che può essere interessante per alcuni poi iniziano a copiarti quindi ovviamente mi riservo dal dire delle cose che poi potrebbero essere copiate quindi signori io non ho messo nemmeno il sito in genere lo metto sempre chi non l'aveste ancora fatto si iscriva alla newsletter sul sito www.agricoach.it chi non l'aveste ancora fatto vada sul canale youtube agricoach marketing per giardinieri e si iscriva cliccando sulla campanellina di modo che ogni volta che ho posto un video vi arriva la notifica e voi lo andate a guardare e approfondite e accorciate la strada verso la vostra evoluzione canale telegram ogni giorno o quasi la mattina appena mi sveglio vi do una pillola paragonabile a una pepita d'oro che voi potete ascoltare e inserire nel vostro bagaglio di conoscenze in maniera del tutto gratuita e poi è la pagina facebook dal quale state ovviamente guardando ora io devo andare ho una scena come anche voi credo da fare e quindi per questa sera è tutto e come sempre oggi con una birrettina genere col vinello che è un po' più di classe io brindo alla vostra evoluzione buona serata e ciao a tutti popolo già di dire ciao